secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora grazie complicata anche perché avremmo intenzione di fare di aprire anche un altro canale twitch dove c'è in casa tipo è monitorata 24 7 tipo però non lo so questa roba qua è perché più che altro effettivamente investire dei soldi sul far stare dieci persone ho pensato una settimana o dieci giorni in altessa casa cioè e magari sfruttare il loro contenuto la sera e basta o il pomeriggio la sera sarebbe un po riduttivo quanto vale 2x più 1 cosa ti sei divertito in grecia sì mi sono molto divertito e qualche domanda in particolare volevo solo sapere se ti fossi divertito perché mi fa piacere che tu sia divertito grazie mi sono molto 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 divertito hai fatto tanto sesso è una domanda a cui non posso rispondere vabbè ci sono scusami una domanda molto fuori luogo ma non si è visto lo schermo live nooo minchia che no no non si è visto lo schermo si è visto lo schermo in live che cazzo dici nooo no 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 ma stava così come fa a vedere eh 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 no no boh nooo è vero vabbè Manu come stai? come ti sei trovato con Rubin? è simpatico vero? si buono e io ti scusi molto buono molto buono eccomi eccomi non mangi si la colazione prima di tutto e poi la cena ultima live su twitch no era questo ieri oh no scusate grazie era per no no io devo aspettare che facciano il pronostico no vabbè grazie per i beat cazzo oh B ma voglio vedere ogni quanto va bella brother saluta B ciao M ma voi avete le foto di Ibiza? ciao parla a modo ma tu parli a modo ma come parla a modo ma tu parli e fai delle cose impressionanti cioè io l'ho visto al bagno del coso The Green è stata senza pantaloni all'evento eh e non ti dico che eh frate mo mi fa parlare però non è vero ma non è vero ah comunque ti saluta Sofia va detto e poi ti scrive dai me l'ho scordata è una cosa nostra stavolta non mi metterai in mezzo metti Vets metti Diamond stavolta non mi metti in mezzo non entro io no è inutile che mi metti così ti vedo metti un altro no no metti un altro ecco da solo ci posso stare però non metti cioè stavolta non so io metti un altro metti Vets metti e conosci a DiBico eh si lo conosco non mi ha chiesto se vuoi venire con noi eh o dove stiamo andando voi no noi stiamo andando a prendere dell'ashish io sono Jojux ciao Jojux ciao ciao eh ma quanto stai facendo qua a Milano? eh ci vivo ah davvero? no si si no 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 sono di Milano e vivo per lavoro ma è la centa da milanese la? la centa da milanese non ho la centa da milanese eh non mi so ah senza accorre scusami bello ma non avevi la testa a pera e invece si era quadrata non la pera eh vabbè pera quadrata ci sono pere diverse più una melanzana più una pera una pera quadrata no sono io vediamo fai il confronto sì sono io sono io aspetta mi metto la stessa coloraci i capelli aspetta non è vero che c'è l'eco l'ho sentito prima io non c'è eco ora sentite l'eco? possiamo dimezzare lo stipendio a picca? droga no assolutamente lui eh lui lui rubino sicuramente però io no io sto meglio di tutti qua dentro secondo me veramente vi mancavo in questa settimana? vi siete devastati? vaffanculo guarda 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 vaffanculo vaffanculo sto meglio coglione sto meglio di tutti sto meglio di tutti sta parlando di a solo guarda non mi voglio identificare per qualsiasi cosa coglione scusate una cosa fa questo da solo nessuno ha fatto una cittura da rite a matto zi non è fuori guarda a restare al volo sta rite da solo no no guardalo guardalo questo è andato è salito è salito grazie a tutti